Allora, buonasera, grazie per essere qui. Stasera chiacchieremo di manuale di sopravvivenza alla gravidanza. Io sono Serena Milano e con Anima Edizioni ho già pubblicato, ho scelto di guarire nel 2012 e Memoria di una tata nel 2016. Tutti argomenti diversissimi, anche scollegati se volete, ma in realtà trovo che sia per me più semplice scrivere di cose che ho personalmente vissuto. Quindi non seguo un filone teorico, ma mi piace raccontare. Essendo tre argomenti diversi, sono scritti in tre stili diversi, per cui il primo molto autobiografico, il secondo un po' più saggistico e questo invece è stato un libro per ridere o sorridere. Il momento della mia gravidanza è stato un momento bellissimo, è stata una gravidanza bellissima dove mi sentivo proprio florida, bella, qualcosa che si avvicinava a una dea, stavo proprio creando, sentivo questo potere della creazione. E c'era però qualcuno che mi infastidiva, con consigli assolutamente non richiesti. Allora, dopo essermi innervosita un pochino, ho pensato che spesso sentiamo sempre parlare di gratitudine, giusto? Anche qua si tengono conferenze, seminari, si parla di gratitudine e di come bisogna essere grati a tutte le prove che la vita ti mette davanti. Quindi ho detto, bene, perché non ringraziare queste persone che stanno dando il loro preziosissimo contributo non richiesto? E quindi è anche grazie a loro che il mio libro esiste. In realtà questa gratitudine si è espressa poi prendendoli un pochettino in giro e analizzando qualche punto saliente dei loro contributi per ridere un po' di e con loro, senza cattiveria. Vi volevo raccontare un po' cosa c'è dietro al libro e come è nato in realtà questo libro proprio fisicamente. Perché parliamo di gravidanza fisica dove si creano i bambini, ma in realtà dietro qualsiasi opera c'è un'epoca gestazionale. E questo libro, mentre io ingrossavo e mettevo insieme tutti questi contributi non richiesti, un giorno disperata dal caldo di luglio, mentre camminavo ormai come una papera all'interno di un centro commerciale alla ricerca di aria condizionata perché a casa non l'avevo ancora installata, ho guardato il mio marito e gli ho detto io adesso prendo tutto, raccolgo tutto e scrivo un libro. Tutti i consigli che non ti ho chiesto, un manuale di sopravvivenza alla gravidanza. E lui mi fa sei però a fallo davvero. E da questa sciocchezza detta così per ridere, che poi mi ricordo di averlo scritto anche su qualche social, è nato davvero questo progetto. Iniziato peraltro giorno 4 agosto 2018. A due giorni oltre il termine, io verso le 6 di sera ho deciso di iniziare a scrivere questo libro. Quindi non l'avevo ancora partorito, dovevo partorire due giorni prima, il termine era quello, ma questo bimbo che si era scatenato e dimenato veramente per tutta la mia gravidanza, quando è stato il momento di nascere ha deciso che io potevo aspettare ancora un pochettino. E quindi ho detto bene, adesso mi metto qua e scrivo. Per cui il primo capitolo che ho intitolato l'equipaggiamento, per permettere a chiunque voglia affrontare una gravidanza di avere gli strumenti necessari per farlo, è stato scritto mentre ero gigantesca e sono iniziate da lì le prime contrazioni. Praticamente la creazione del libro è coincisa con la nascita di mio figlio che ha deciso di nascere la mattina seguente. Si sono praticamente dati in cambio, ho partorito un bambino e è iniziata l'epoca gestazionale di questo libro. Poi il proseguo mi è servito qualche mese perché ho dovuto prendere un attimo dei ritmi nuovi, gestire delle nuove tempistiche. Comunque si è concluso nei primi sei mesi di vita del mio bambino. Io ho affrontato quelli che ritenevo i punti più importanti, quindi ad esempio vi ho detto l'equipaggiamento. Che cosa serve? Cos'è questo equipaggiamento? Serve qualcosa per fare nei bambini? Sì, sì. Ho messo insieme tutto, ho proprio pensato che un'ipotetica nuova gravida potesse prepararsi uno zainetto con tutto il materiale occorrente. Quindi ho messo la pazienza, la capacità di fare sorrisi finti, però bisogna allenarsi davanti allo specchio, quindi servire, annuire, perché bisogna dire spesso di sì. E soprattutto, un punto che io ritengo importantissimo, acquisire un numero elevatissimo di parole. Perché quando poi la gente ti infastidisce un attimo, non puoi sempre rispondere male, non è carino. Però tante persone non capiscono il sarcasmo, quindi più si danno risposte con dei termini inconsueti, più le persone pensano di essere state prese sul serio e non si accorgono che in realtà le state un po' prendendo in giro. E questo secondo me è un ottimo materiale occorrente. Mi sono soffermata anche sul concepimento, perché a volte si fa l'errore, ho avuto innocenza, dici guarda sai, ti dicono vorresti avere un bambino? E tu dici sì, mi piacerebbe. Da lì praticamente tutti si aspettano la gravidanza, perché hai detto di sì. E ti scrutano, ti guardano, continuano a fissare la tua pancia, ma non puoi più permetterti di metterti un abitino stretto, mangiare una pizza, una coca cola, perché se ti si gonfia un po' la pancia, tirano tutti il collo e dicono eh eh, ti vengono i capelli un po' più belli perché hai fatto il mutuo dal parrucchiere, potresti essere incinta. E c'è sempre il test, che non l'ho anche scritto, il test della sigarettina. Qual è il test? Lo conoscete il test della sigarettina? No. Allora, se tu fumi e non hai ancora smesso, sei incinta, ma sei già una cattiva madre. Se invece fumi e hai smesso, anche per motivi tuoi personali, non collegati alla gravidanza, sei incinta, ma non l'hai ancora detto a nessuno. Ok? Perché sono tutti lì ad aspettare così, è così, ti controllano, ma ti controllano tantissimo. Se poi questo bambino, si sa che i bambini fanno un po' quello che ne hanno voglia, no? Magari lo vorrebbe subito, lo vorrebbe un po' dopo, i bambini fanno quello che pare a loro. Quindi c'è chi arriva subito, c'è chi va ricercato, c'è l'adozione, che lì è essere una mamma di cuore, tanto di cuore oltre che di pancia. Ma i bambini di tutto ciò decidono autonomamente e se ne fregano un po' di quelli che sono i nostri progetti. Quindi se da inconsapevoli avete detto sì, voglio un bambino e non avete ancora detto che siete incinta dopo qualche settimana, quindi spiegatevi, vi danno i consigli su come concepirlo. Non lo sapete fare voi? Vi danno i consigli, vi dicono come fare e qual è il momento migliore per concepire un bambino. O se no, danno la colpa a qualcuno, perché ovviamente se non arriva, di chi è la colpa che non arriva? E inizia questo teatrino del chi sarà, sei tu o è lui, secondo me e fanno tutti i loro pronostici. Magari voi siete già incinte e non l'avete detto, io ho fatto così. E mentre mi dicevano tutti come mai, come mai, dicevo non so niente, ma io sapevo già di avere una piccola sorpresina. Dopodiché farete il lieto annuncio. A mie spese ho imparato che se dovessi farne un altro lo comunico al compimento del quinto anno del bambino, non prima, perché prima è rischiosissimo. Comunque durante il vostro viaggio nella gravidanza incontrerete una figura che vi accompagnerà tante volte, la ginecologa o il ginecologo a vostra scelta. Noi da poveri e ignoranti pensiamo che sia quella persona che ha la targa fuori dallo studio, giusto, il dottore, la dottoressa che vai dentro, ti visita, ha l'apparecchio strano, fa le coreografie. No. No. Quelli lì, scelta vostra. Ci sono i ginecologi in incognito. Cioè praticamente voi non lo sapete, ma chiunque, qualunque persona che abbia mai visto una pancia o un bambino anche da lontano, va bene anche un'immagine o una foto, sa esattamente come la gravidanza va vissuta e cosa succede punto per punto, anche se è vostra, anche se non hanno mai avuto figli, anche se magari non piacciono neanche tanto i bambini, ma la teoria la sanno bellissimo. Quindi ve la vengono a spiegare, perché è evidente che probabilmente c'è tipo guardando me, era evidente dall'aspetto, presumo, che io non fossi in grado di sapere certe cose. E sono anche figure versatili, peraltro, queste ginecologhe, sono nutrizioniste, psicologhe, consigliere, posturologhe, tutto quello di cui avete bisogno, loro lo sanno fare. Ora, io alla fine di tutto mi sono chiesta perché sono andata a spendere veramente tanti soldi dalla dottoressa con la targa fuori dalla porta, quando c'era il mondo pronto a darmi assistenza. Non ho ancora trovato risposta a questa cosa, erano veramente tante, sapevano tutto, 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 tutto. Visto che, come sempre, la crisi non conosce la crisi di se stessa, i dettagli non conoscono crisi, i dettagli brutti, le cose spiacevoli, non ci sono mai crisi. I tutologi o queste ginecologhe l'incognito non arriveranno mai a darvi buone notizie, ma sempre quelle più scabrose. E si impegneranno e lo faranno e ci entreranno anche il punto, ad esempio, io stavo benissimo e mi dicevano, hai la nausea? No, sto bene, non ce l'ho, vomiterai presto. Va bene? Invece non è stato così. O vi racconteranno tutte le cose più spiacevoli in base al momento in cui vi trovate. Non so perché hanno un tempismo perfetto. Altro punto caldo di cui ho parlato nel mio libro è stato il peso e la dieta che dovete seguire. Allora, dovremmo essere tutti d'accordo che sarebbe cosa buona e giusta prendere un numero decente di chili. Poi appunto lì c'è la ginecologa, quella che voi pagate, che vi sa guidare e vi sa dire meglio di me sicuramente. Ma le nostre ginecologhe l'incognito, che sono anche nutrizioniste, ci tengono a dirvi come vi dovete alimentare. Ad esempio, io sono anni, ma veramente anni, che sono vegetariana, non mangio la carne. Tranquillamente, non vado a disturbare chi lo fa. Io ho fatto la mia scelta. Avevo deciso che nel momento in cui fossi stata incinta, se avessi sentito bisogno di mangiare carne, l'avrei assecondato. Se non lo avessi sentito, ne avrei fatto a meno, come stavo facendo. Sono una cosa molto libera, molto tranquilla, molto centrata sull'ascolto dei miei bisogni. Ve lo dico perché so che non vedrà mai il video. La mia vicina di casa mi ha inseguito sulle scale per dirmi assolutamente che dovevo preparare l'arrosto e consigliarmi anche i tagli di carne. Ovviamente io pur di liberarme ho giurato e spergiurato di preparare qualsiasi cosa a base di carne, anche se veramente non sono assolutamente in grado, ma con faccia impune e tosta ho garantito di occuparmi adeguatamente della nutrizione del mio bambino. Dopodiché ci sono anche i pronostici postumi al parto. Ad esempio vi dicono, vedrai tutti quei chili che hai preso non li perderai mai più, oppure in grassa perché questo bambino nascerà piccolo e sotto peso per colpa tua che non hai mangiato. Sono così, ma noi li ringraziamo e li amiamo anche per questo. Altro argomento caldo con cui vi potreste scontrare o incontrare durante il momento gravidanza il sesso del bambino che deve nascere. I bambini hanno un sesso maschio-femmine. Tutti di solito abbiamo delle piccole preferenze, tutti ci sentiamo più portati per gestire i maschi o le femmine. Io pensavo che fosse una preferenza legata più o meno ai papà o alle mamme. No, i genitori del bambino dovrebbero loro avere la preferenza, arriva in casa loro il bambino. Invece no, ti danno tutti i contributi. Ad esempio c'è dato un pisello d'ufficio, eventualmente la trasformeremo in maschio. Oppure, quando invece ho poi saputo che ero un maschio, una signora mi ha fermato e mi ha detto, ah, aspetti, e io, ah sì, sai già che cos'è? Sì, maschio. E mi ha detto, eh, va bene, dai, va bene anche maschio. Signora, lo portiamo indietro con lo scontrino? Cosa facciamo? Quindi non è solo una questione di gusto vostro, ma anche di gusto della collettività. Organizzatevi peraltro. Pare, tra l'altro, che vada molto di moda, ma io non so e non ho appurato nel caso se funzioni o meno, un tale calendario cinese che in base ai vostri anni e al mese del concepimento vi sa dire se avrete maschio o femmine. Io non ho controllato, leggo in questi famelici gruppi delle mamme, che alcune garantiscono che funziona benissimo e altre invece no. Non lo so, non me ne sono data troppo. Tra l'altro, ai fini della determinazione del sesso, io ho sempre detto, voi andate ostinatamente dalla ginecologa che pagate o dal ginecologo o anche dalle, non lo so, quelli del sistema sanitario nazionale che comunque li pagate anche quelli, ma vi fanno le domande in base a come siete. Vi guardano, vi scrutano e decidono in base a delle vostre caratteristiche fisiche se state per avere un maschio o una femmina. Addirittura ci sono casi in cui voi dite che è un maschio e vi rispondono no, è una femmina. E voi dite ma non è possibile. Invece sì, lo fanno. Vi chiedono di far vedere le mani, vi guardano la forma della pancia, la faccia. E voi avete pagato però quel povero Cristo col camice che si è disturbato a farmi l'ecografia e vi ha proprio fatto vedere se era un maschio o una femmina. Ma non sono convinte. C'è proprio questa scienza delle pance, io l'ho definita così, una scienza delle pance che pare che sia conosciutissima. Questa cosa mi è successa veramente. Un pomeriggio sono uscita e stavo camminando per strada per i fatti miei con le cuffiette, la musica, camminavo, ho fatto un giretto e una signora mi ha chiamato gesticolando in maniera piuttosto evidente dicendo signora, io mi sono girata, pensavo stesse succedendo qualcosa. Dice, è un maschio? E dice, sì! E si vede tutta pancia. Provate a fare delle ricerche autonome voi, poi fatemi sapere, contattatevi se c'è evidentemente un fondamento o qualcosa di questa scienza. Io ad oggi non la padroneggio e non sono in grado di vedere cosa succede. E poi un capitolo caldo che mi toccherà sicuramente è la scelta del nome. La scelta del nome penso che sia un punto che possa essere visto da infinite angolazioni, cioè il nome che ereditate, i significati del nome, cosa implica per una persona avere il nome che è già stato utilizzato di qualcuno, della famiglia. Potreste farvi tutte le vostre ricerche sul nome perfetto, potrebbe arrivarvi un sogno, potreste avere un'epifania, ad esempio io e mio marito ho avuto questa epifania del nome e ero incinta da pochissimo e mi ha detto se sarà maschio si chiamerà così. Maschio è stato e quello è stato il nome. Però dovete dirlo agli altri. E secondo voi siete in grado di scegliere un nome che c'è agli altri? No. Ma non vanno bene i nomi moderni, antichi, stranieri, ispirati a qualcosa, ma magari in corti, lunghi, abbinati col cognome, il doppio nome, cioè non va bene niente. Magari voi, non lo so, fin da bambini lo sapevate che volevate mettere proprio quel nome lì a vostro figlio, non va bene. E ve lo dicono. Dove hai trovato questo nome? Che nome vecchio, non va più di moda. Sei sicura di chiamarlo così? Quindi ho deciso io che qualora, io vi ho detto se mai avrò secondo figlio lo dirò quando il bambino ha compiuto 5 anni, qualora mi vedessero prima con la pancia io dirò che lo chiamerò vercingetorige. Strano, inconsueto, lungo, ricamatelo sulla bavaglia. Presentatemi perché sapete che si regala la bavaglia con il nome ricamato, si ricama il nome su tutto quando arriva un bambino, lenzuoline, bavagline, pigiami, non c'è il nome dappertutto. Ricamate vercingetorige, io vi aspetto. Voglio consegnare la bavaglina con scritto vercingetorige, qualora, mai, sarà. Quindi il nome, state certi che il nome che sceglierete per vostro figlio, no, sarà brutto, non piacerà, non piacerà a nessuno. Una cosa però io vi consiglio, questa io l'ho anche scritta, ve la voglio, ci tengo a dirvela personalmente. Il nome si abbina con il cognome. Tutti abbiamo un nome, tutti abbiamo un cognome. Abbiamo nove mesi di tempo per pensarci, otto se l'avete saputo dopo, sette se nasce proprio in anticipo, ma di tempo ne avete, cioè sei mesi ce li avete tutti, che è tanto tempo, è una maternità facoltativa praticamente. Quindi sei mesi ce li avete. Sarebbe carino e garbato, ma questo ve lo dico da figlia. Che il nome stesse bene col cognome, non facesse appugni. Perché io stasera sono qua a fare la mia presentazione e ho scritto tre libri e io mi chiamo Serena Milano. Cioè manca Giuliacci che racconta qualcosa sulle temperature meteo con il mio nome. A Milano è prevista un'ottima giornata serena. No, non fate questi dispetti ai vostri figli perché non è carino. Però io sono andata a mia mamma e gli ho detto mamma, ascolta, hai avuto nove mesi per pensarci, io sono andata in retardo, hai avuto una gravidanza dove sei stata a riposo, ogni tempo li hai avuto tantissimo. Ma non hai pensato che con il cognome, il nome di città, un aggettivo non stesse bene. Non ci hai proprio pensato? No. Anzi, tornassi indietro, ti chiamerai Chiara. Mia mamma sa la grammatica, bellissimo, ok? Cioè è intenzionale questa cosa. Adesso andremo poi in un secondo momento ad approfondire perché. Ma pensateci, pensate a me quando mi capita che dovete scegliere e voi pensate a me. Serena Milano. E fate un ragionamento vostro. Poteva andarmi meglio in questo caso? Sì, poteva andarmi meglio. Mi dicono, vabbè, hai gli occhi azzurri, va bene. Compenserà in qualche modo, non ho ancora capito quale. Compenserà in qualche modo. Dopodiché abbiamo il nome, abbiamo le ginecologhe, abbiamo gli esami, gli esami in gravidanza. E ce ne sono tantissimi. Sono prelievi, valori, esami. Ma c'è l'esame. Voi lo conoscete l'esame? Curva glicemica da carco. Quello è l'esame. E allora, premesso che si fa come si fanno tutti, serve a vedere se avete il diabete. Quindi vi danno da bere una bottiglia di sciroppo e vi fanno due prelievi. È un po' noioso, state lì, vi portate un libro, magari vi portate questo che vi fa ridere. Ma quello che vi dicono di questo esame, cioè mi sono presentata accompagnata da mio marito perché mi hanno terrorizzata. C'erano un sacco di amiche che sono venute a raccontarmi di come si stesse male. Nel mio immaginario mi vedevo in una stanza piena di lettini con gravi desvenenti e vomitanti, in preda a questo shock. Vi assicuro che non è così. Si può vivere bene anche con la curva glicemica da carco. Quindi adesso voi lo sapete, io ve l'ho detto nel video, voi lo sapete e avete l'autorizzazione a non dare ascolto a queste brutte voci e dicerie che ci sono. Conferma, signora? Vero? Lo so. E poi insomma si va avanti con la gravidanza, il tempo passa, come si diceva prima, si prendono cose, tante cose, montagne di cose. E io questa cosa ve la vorrei raccontare perché per me ne approfitto per ringraziare. Faccio parte di un circolo virtuoso di ragazze amiche mie che stiamo avendo tutti i bambini più o meno nello stesso periodo. Abbiamo iniziato a gentilmente prestarci tutto ciò che occorre per i nostri bambini. Quindi tra me e le mie amiche c'è un passaggio incredibile di borse, borsoni con vestiti, oggetti, giocattoli, qualsiasi cosa e c'è questo modo bello di poter vivere la gravidanza e di gestire un po' questo shopping compulsivo che viene da fare che è veramente quanto rate di mutui, cioè praticamente ci compri una stanza nuova di un nuovo appartamento con tutto il materiale occorrente. E c'è questo modo bellissimo. Io fino a un certo punto ho solamente partecipato ricevendo oggetti. Adesso a mia volta li sto offrendo anch'io ed è bellissimo perché posso prestare oggetti con cui c'è un legame affettivo, con cui ho vissuto, che mi ricordano dei momenti belli che ho vissuto con il mio bambino a qualcun'altra che so che anche lei vivrà questi momenti preziosi, si stamperanno anche nella sua memoria ed è bellissimo, dà tantissima gioia, almeno a me personalmente dà tantissima gioia e sono felicissima di aver iniziato questo circolo virtuoso con le mie amiche. Comunque, a parte questo momento romantico di ringraziamento dove loro mi hanno fornito tante cose, mi hanno accompagnato nella mia gravidanza, la gravidanza prima o poi si conclude con un parto e da sempre si ha un po' paura. C'è anche la famosa frase, tu donna partorierai con dolore, è giusto? E tutte abbiamo un po' paura, specialmente se è il primo che non sappiamo tanto cosa aspettarci. Tutte teoricamente lo immaginiamo questo parto, abbiamo un'idea. Ma io ho scoperto una cosa interessante, è che ci sono delle tifoserie tra le varie donne, delle squadre, vere e proprie squadre d'appartenenza, cioè non sono solo nel calcio, sono anche nella sala parto le squadre, le curve. Allora, ci sono le parto naturale a tutti i costi se vuoi essere una vera mamma, devi partorirlo naturalmente, non ce n'è, senza anestesia. L'anestesia non è neanche contemplata, l'anestesia proprio se ti devono fare un cesareo d'urgenza, ma perché è urgenza? Se no, lo fai naturalmente, se sei una donna che hanno fatto per partorire, partorisci, punto. Poi quello invece del cesareo, che viene sempre chiamato cesareo, con la I, anche qua nel nome, ricordatevelo, cioè se fate un maschio, lo chiamate cesareo, dopo verrà nominato tantissime volte, gli fischieranno le orecchie. E ci sono queste due fazioni che si scontrano, assolutamente. Io il mio parto lo avevo immaginato, dettagliatamente, perché sapete che le visualizzazioni aiutano e servono per immaginare un momento, per viverlo in maniera giusta, quindi io mi immaginavo in un'atmosfera ovattata, calma, in una vasca da bagno, perché volevo partorire in acqua, la musica di sottofondo, carina, un mio reggistero nero che mi ero andata a comprare per l'occasione, perché nuda non mi sembrava molto bello. E così, tra l'acqua calda che le nive e i miei dolori, mio figlio sarebbe venuto al mondo. Mio figlio si è presentato due giorni in ritardo, io non avevo voglia neanche di mettere un dito nel piede nell'acqua e ha deciso lui tempi e modalità. E abbiamo capito che i nostri piani non coincidevano. Però c'è questa cosa bellissima, che qualsiasi cosa brutta vi possano raccontare. C'è stata una frase a cui io mi sono attaccata e l'ho sentita a un convegno da una dottoressa tedesca che ha detto, mi ha fatto ridere tantissimo perché la prima cosa che mi ha detto è io a tutte le donne che vanno in sala parto vorrei una bottiglia di vodka, così bevono, vanno, fanno e sono più rilassate. Valutatela come opzione eventualmente, una fiaschetta vedete voi. E la seconda cosa mi ha detto non preoccuparti, ascolta il tuo corpo perché lui sa cosa fare. Ed effettivamente è vero, lei mi ha svelato il segreto più grosso a cui potesse ambire ed era ascoltare il mio corpo perché sapeva esattamente che cosa fare. E poi avete visto, la gravidanza è terminata, siete sopravvissute, avete avuto il vostro equipaggiamento, avete fatto un bel viaggio, nel libro vi racconto altre aneddoti, tante cose. Tornate a casa! Perché ho considerato la gravidanza non come solo i nove mesi di gestazione puri. Adesso va molto di modo a considerare i dodici, cioè tre trimestri dentro e uno fuori. I quattro trimestri della gravidanza. Quindi voi arrivate a casa, avete il vostro fagiolino o fagiolina, avete preparato tutto, avete speso dentro un sacco di energie per mettere tutto a posto, tutto bello. E iniziano? Che cosa inizia quando arrivate a casa? Le visite. Brava! La signora si vede che iniziano le visite. Cioè si scapicollano tutti per venire a trovarvi e a vedere il bambino. Allora voi mamme, se siete state portate in palmo di mano e su un trono che vi sbucciavano anche l'acido nuva mentre eravate incinte, vi hanno detronato completamente, buttate giù, messe come materiale di rifiuto. Siete pure brutte perché avete ancora un po' di ciccia che mi avanza dalla sola parte. E ve lo dicono anche, hanno anche questa gentilezza di dirmi, voi se siete ancora incinta e avete in mano un fagiolino grosso così. Certo? Certo? Davvero sì? Veramente, non sto dicendo bugia. Ve lo dicono anche che magari non dormite da tre giorni, mi dico, eh non hai tanto l'aspetto bello. Vedi tu? Hai dei punti, non lo sai qualcosa, hai subito un intervento. Sei brutta, non sei tanto in forma oggi. No, non sono tanto in forma, ma vengo comunque a casa tua, mi faccio offrire il caffè seduto sul divano, fermango quanto più tempo possibile e vi possono porre delle domande carine e garbate come ad esempio, sai tenerlo in braccio bene? Perché piange? Perché non parla? Perché se potesse dirmi cosa lo disturba me lo direbbe, ma poveraccio c'ha due giorni di vita e non parla. C'è un po' in disordine in questa casa. Vedi tu? Sì. Quindi ora facciamo un appello collettivo, questo video andrà distribuito su un sito a livello nazionale. Allora, se avete un'amica gravida, le regalate il libro, quando vi presentate a trovarla, non fatevi offrire il caffè, ma cortesemente presentatevi con una teglia di lasagne, della pasta fredda, fate il bucato, portate dei cibi che vanno nel congelatore, che si trova la cena pronta. Vero? Io vedo delle teste annuire sul fondo. Perché sono questi poi i problemi comuni, le cose che vogliamo. Non ci interessano i body, le tutine, le bavaglie, ne abbiamo con i cassetti che esplodono, non li metteranno mai neanche tutti. Io vi giuro, ho messo via dei vestiti nuovi con l'etichetta attaccata, non ho fatto in tempo a metterli perché mi è cresciuto un figlio in un battibaleno, ma nessuno mi ha portato una teglia di cibo da mettere nel congelatore, io volevo una teglia di cibo. Quindi queste cose. Poi se la mamma quel giorno non è tanto bella, ecco magari se non glielo dite, rischiate di restare amici anche dopo. Se non vi interessa più, diteglielo invece. Scelta vostra, a vostra discrezione. Dopo questi preziosi contributi, vi racconto qualcos'altro perché poi le scoperte vanno avanti nel tempo. Nel frattempo il mio bambino è cresciuto, io penso di aver già raccolto materiale sufficiente per scrivere altri due libri sul seguito. Quindi non c'è solo la gravidanza, c'è anche il dopo. Tutte queste persone che gentilmente vi offrono il loro prezioso contributo di cui non potevate fare a meno, continuano. Ma guardate che la cosa bella è che se anche fate gli occhi brutti, rispondete male, buttate giù il telefono, non aprite al citofono facendo sentire che siete in casa. Qualcosa veramente da benucati? Niente, vanno avanti, ve li danno comunque, non ve ne liberate. E proseguono. Come raccontavo prima mentre stavamo chiacchierando, che aspettavamo che iniziasse. Ad esempio c'è questa cosa che io mi sono innamorata, si chiama Baby Wearing, portare il bambino. Ho scritto un post recentemente sul mio blog perché il mio bambino è un bambino che ama essere portato nei marsupi, nelle fasce. Ragazzi, cioè voi mettetevi nell'ottica che qualsiasi scelta per i vostri figli verrà demolita, criticata e vi faranno delle domande ovvissime. Ad esempio, respira. Respira. Perché ce l'hai addosso? Perché ce l'hai addosso? Respira. Sì, respira. Non l'ho ucciso, è vivo. Penso che ogni mamma non ambisca a uccidere la propria creatura. È vestito pesante, ha caldo, ha freddo, ha fame. Non mi è mai successo di incontrare una mamma che trascurasse così tanto il bambino. Ecco, sono altre cose carine che magari potete evitare di dire quando andate a trovare le vostre amiche, i vostri amici e soprattutto quando fermate per strada gli sconosciuti. Perché vi fermano anche per strada per farvi queste preziose domande o per dirvi cosa è meglio e in quale maniera è meglio che voi vi comportiate con il vostro bambino. Certo, chiunque si sente in dovere. Quindi, ora, se dopo che il video verrà messo online voi mi fermerete ancora per la strada e mi raccontate, mi farete ancora delle domande che vi infastidiranno, sappiate che io scriverò in seguito e vi citerò personalmente con dei dettagli e gireremo un altro video dove vi ringrazierò per nome questa volta. Ci sono state fortunatamente tantissime persone con cui mi sono confrontata su tanti temi perché poi è un'avventura, quindi non è una situazione statica ma una cosa in continuo e costante movimento e ogni volta che pensi di aver trovato un punto di equilibrio le carte in gioco si rimescolano e cambia tutto nuovamente. Devi trovare un nuovo punto di equilibrio perché ovviamente i bambini crescono, hanno sempre nuove esigenze, sempre nuove competenze e tu devi far fronte a tutte queste richieste che continuano a mutare. Per cui sì, il confronto è vitale. Ho selezionato le persone con cui mi ha fatto tanto piacere aprirmi, confrontarmi, chiedere anche consigli perché poi sì, è vero che io rido su chi dà consigli così, però qualche consiglio è preziosissimo, specialmente nei primi tempi e l'ho anche scritto quello della mamma. Quando i primi momenti si naviga a vista e non si sa nulla e si vuol fare tutto giusto senza averne la certezza. A volte la mamma ti guarda e tu dici ok, mia mamma mi sta guardando tranquilla, io sto facendo bene. Senza neanche bisogno di una parola. E poi sì, si scoprono sempre i mondi. Ad esempio io prima vi ho citato il baby wearing, il portare i bambini. Io conoscevo solo, adesso vi faccio un esempio, il marsupio. Ci sono gruppi appositi, mi sono inserita, ho chiesto, mi sono confrontata con persone, mi si sono aperti dei mondi. Io ignoravo francamente, non conoscevo. Tutte le cose con cui si viene a contatto hanno cenni storici. A livello di educazione, a livello di scelte alimentari, qualsiasi aspetto, il confronto sì, è importantissimo. Io ho la fortuna, e questa è veramente una grande, 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 grande fortuna, di aver lavorato a contatto con i bambini per tanto tempo e di avere tante colleghe o ex colleghe a cui potermi rivolgere, a cui chiedere. Sia mamme, sia non mamme, ma con tantissima esperienza. E per me loro sono veramente dei pilastri e dei fondamenti. Tante volte una loro parola, una loro considerazione serve per rassicurarmi o per darmi uno strumento per gestire una situazione, per sbloccare qualcosa che in quel momento mi sta un attimino mettendo in difficoltà o io non riesco a orientarmi. E loro sono preziosissime. Grazie a tutti.